ecco i miei eyes sono tutti per te piccola bb tutti insieme saluta tu stai facendo la storia io sto facendo la storia a te è tutta una storia la storiella taggami come se non ci fosse domani taggami volevamo chiederci prima mattina ma se passano gli anni e tu avevi un naso così il naso ti diventa così per colpa della cartilagine allora ragazze abbiamo registrato oggi si ritorna a milano ritorniamo qui a roma sabato e saremo qui fino a mercoledì quindi magari ma chi se l'ha chiesto tu lo sai che mancano tre minuti di uscire da questa camera? non mi stressare ok sono sola, sola anche tra la gente sono sola, sola vivere nel niente se ci tieni ancora tu vieni mi a prendere che sola, sola volo il controcorrente tu vieni mi a prendere